Questo libro racconta 50 anni di progresso per la gente. L'occasione è stata quella di presentare nella cornice di Parco Montalbano a Doria quella piccola grande opera di lacrime, drammi personali, mani speranze. Eppure dalla condanna alla guarigione, il libro che racchiude 50 anni di ricerca medica nella lotta al tumore al seno, circola nelle librerie digitali e fisiche già da un bel po'. Scritto a quattro mani dal direttore di oncologia del Perrino, Saverio Cinieri, presidente nazionale di Aium e dal giornalista Mauro Boldrini, l'opera racchiude numeri, nozioni, dati, storie di vita di chi il tumore lo ha combattuto vincendo. È un libro che mi dicono tutti si legge tutto di un fiato, quindi mi fa piacere averlo scritto insieme a Mauro Boldrini e spero che il giudizio positivo che fino adesso ho ricevuto sia un giudizio anche da parte dei lettori che vorranno avvicinarsi a questo mondo complicato ma utile. La ricerca sta facendo dei passi avanti velocissimi con un'esplosione di dati e con un'esplosione di informazioni che anche noi oncologi abbiamo ormai difficoltà a recepire. Pensa che io nel mio gruppo ho esperti di patologia, che sono patologie oncologiche diverse, altrimenti non sempre riesco a seguire tutti i risultati, quindi è importante in un gruppo creare dei giovani o dei meno giovani che seguono un po' la ricerca, per esempio, su altri tipi di neoplasia perché ormai è diventata così veloce, i dati sono così perfettamente disponibili a tutti in tempi rapidissimi che è importante conoscerli. Resta così l'importanza della medicina e della scienza sullo sfondo del dolore, di quella condanna e di quella guarigione tra buone pratiche e prevenzione, tra ricerca e progressi, appunto l'importanza di quella speranza scritta e raccontata in una notte di finestate a Parco Montalbano. della cultura della lettura.